Sono state ore di apprensione, quelle vissute sulla Monte Labattese, nel territorio comunale di Monte Labate, per un pacco chiuso con un nastro isolante trovato sul ciglio della strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Montecchio di Vallefoglia. La strada è stata chiusa in via precauzionale e sul posto sono intervenuti gli artificieri. Così è infatti scattato l'allarme. Ad informare di quanto stava accadendo sarebbe stato un residente che avrebbe visto un uomo lasciare il pacco e ripartire in auto in gran velocità. Gli inquirenti hanno così chiamato gli artificieri che hanno effettuato le verifiche del caso. Gli stessi hanno utilizzato un robot per aprire l'involucro. All'interno non è stato trovato niente di sospetto, per questo l'allarme è rientrato.